Impara a suonare la chitarra grazie a Fabio Giovanni Malacarne, un musicista di Villa Verucchio. Insieme a lui fonda il primo gruppo nel 1984. I Fibra, il gruppo si esibiva principalmente in pub della zona riminese, e suonava cover degli U2, Simple Means e Lucio Battisti. Nel 1990, durante un concerto all'Old American Bar di Viserba viene notato da Patrizia Rabitti, che lo fa conoscere al marito, Mario Flores, proprietario dell'Even Studios, un grosso studio di registrazione che aveva sede a Rimini. Comincia quindi un periodo di provini con case discografiche di Milano. Fino a quando nel 1992 incide il primo disco, La figlia del re. Patrizia Rabitti è anche l'ideatrice del cognome d'arte, Malatesta. Essendo studiosa di storie e vivendo Filippo Averucchio, città di origine della casata dei Malatesta, aveva l'abitudine di chiamarlo Filippo Malatesta. Nel 1992 arriva anche la prima apparizione televisiva nel programma Canzoniere dell'estate, la stessa sera della liberazione di Farouk Kassam, dove canta La figlia del re. Negli anni successivi è ospite fisso nel programma Roxy Bar di Red Ronnie e inizia un tour che, toccherà club di tutta Italia. Nel 1994 incide il secondo album, Malatesta a San Francisco, negli Stati Uniti, dove il cantante trascorre sei mesi. Il produttore del secondo album è Corrado Rustici. Lo stesso produttore di Zucchero ed Elisa. Nel 1994 partecipa anche alla trasmissione un disco per l'estate a Riccione. Nel 1997, dopo aver prodotto Il Re delle Tre, lascia la casa discografica Visa Records per contrasti riguardanti le scelte artistiche delle produzioni. Nel 2000 scrive per Siria la canzone «Cento giorni» che fa parte del disco «Come una goccia d'acqua». È stato proprietario di un locale a Verucchio, Il Vincanto, nel quale si esibiva regolarmente. Ad oggi ha un locale a Villa Verucchio, Il Chiosco.